. Anticipazioni amici 3 e 6, per la semifinale attesi tanti super ospiti. La semifinale andrà in onda eccezionalmente di domenica. In studio ci saranno Beppe Fiorello, Gianna Nannini, Fabrizio Moro e Alvaro Soller. Ultime battute per amici, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi. La nona puntata non è andata in onda sabato 2 giugno, com'era in programma, ma domenica 3 giugno. . Il motivo per cui Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto non è chiaro. Forse, come ha ipotizzato Tblog, la De Filippi è stanca di andare in onda di sabato e affrontare una serata scomoda, competitiva e difficile da conquistare, televisivamente parlando. Infatti, amici, nonostante gli ascolti più che soddisfacenti, nelle ultime settimane ha faticato nel registrare ascolti migliori rispetto a Ballando con le stelle, suo diretto concorrente. Gli ospiti della semifinale. L'attesa semifinale di Amici, in programma domenica 3 giugno, vedrà la partecipazione di superospiti. . Le assegnazioni della semifinale. Finalmente, è tutto pronto per la semifinale, durante la settimana i cinque ragazzi rimasti in gara, Loren, Irama, Einar, Emma e Carmen, hanno lavorato duramente e sono pronti a darsi battaglia. . Tutti contro tutti. Nelle ultime ore, sono state rese note le assegnazioni della semifinale. . Loren Celentano si esibirà sulle note di Objection e i film Kufretti, Carmen, che duetterà con la Nannini, proporrà due inediti tra le mani e la complicità, Your Song di Elton John, il dedicato, della Berte, Einar, duetterà con la Mannoia e canterà, oltre a se telefonando e Angelo, i suoi inediti salutalo da parte mia e chi ama non dimentica. . Irama, il favorito di questa edizione di Amici, duetterà con Fabrizio Moro e si cimenterà in voglio solo te, cosa resterà, tornerai da me ed i giardini di marzo, infine, Emma che canterà con Alvaro Soler, si metterà alla prova con i NED SOMEBODY, IDGAF, LOVE ME LIK E YO DO E LE ERGO. . . Durante la semifinale, per la prima volta in questa edizione, i ragazzi non indosseranno le classiche tutine bianche o blu, ma delle nuove tute rosse. .